Sindaco Luciani, a piedi sicuri, parliamo di mobilità e di sicurezza stradale, avete unito le forze con altri comuni dell'area Tiatieni? Sì, Francavilla, Ripa e Torrevecchia insieme, finanziati dalla Regione Abruzzo con un progetto di oltre 500.000 euro, il caso di dire l'Unione fa la forza per la sicurezza stradale, una parte per quanto riguarda la sensibilizzazione, l'informazione e quindi corsi di aggiornamento, un'altra parte per quanto riguarda opere concrete da fare sui tre territori, alcune delle quali già realizzate, alcune in fase di realizzazione. Francavilla, Ripa e Torrevecchia avranno il catastro delle proprie strade per fare un esempio, Francavilla avrà dei marciapiedi sul ponte della Nazionale in zona sul fiume Alento, ma abbiamo avuto anche tanta formazione e quindi abbiamo aumentato la nostra sicurezza stradale con questo progetto che non terminerà qui ma avrà un seguito nel corso degli anni. Quanto è importante questo progetto di sicurezza stradale tra l'altro con l'Unione e altri comuni? L'Unione fa la forza anche in questo caso e quando si presenta un progetto che ha una concretezza, perché non stiamo parlando di area fritta come si parla di solito, ma una concretezza, questi progetti poi vengono finanziati e servono al territorio, sono utili al territorio. Per quanto riguarda Torrevecchia, per quanto riguarda il progetto in generale, si tratta innanzitutto di educare, istruire all'uso delle strade. Da parte nostra, da parte degli enti, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che le nostre strade siano sicure dal punto di vista del manto stradale, degli attraversamenti, dei marciapiedi, però nel momento in cui abbiamo tutto questo e poi il problema degli incidenti comunque continua a sussistere, allora vuol dire che dobbiamo fare anche educazione.